Firenze in Pruneta Tratto chiuso per lavori fino alle 19 tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Aglio sempre verso Bologna In direzione Roma code per traffico intenso tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino Sulla FIPILI per lavori possibili disagi tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa verso Firenze Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze Buon viaggio! Grazie a tutti!